e quindi ci siamo secondo movimento iniziamo a fare a destra vado indietro con la gamba destra e qui facciamo subito anche il terzo per visualizzarlo bene fate proprio tutto ampio, inizialmente va benissimo poi lo stringete stringete vuol dire che fate convergere due punti ovviamente avendo una volta la stoccata di sinistra una volta la stoccata di destra stoccata di sinistra grazie a tutti grazie a tutti